Dal giorno del temuto quizzone agli esami di maturità, i sindacati fanno già una panoramica ad ampio raggio sulla situazione della scuola molisana. Interventi, azioni prioritarie e obiettivi da proporre al nuovo direttivo regionale per favorire e garantire un servizio scolastico che risponda alle esigenze del territorio. Per la CGL un Molise ha le prese con tanti problemi. A partire dal numero degli studenti, 9.000 e meno negli ultimi 10 anni, in calo di altri 877 quest'anno. Sul fronte del personale un'emoragia di 1.600 posti di lavoro in 10 anni e di 25 persone in meno tra docenti e personale ATA. Poi la mancata predisposizione di servizi e del personale per il tempo pieno risulta essere un altro punto critico. Altro tema caldo già da qualche anno a questa parte è la stabilizzazione sul territorio di centinaia di insegnanti che per effetto della buona scuola sono stati trasferiti e ottenuto il ruolo a migliaia di chilometri di distanza da casa. Occorre poi rivedere a detta del sindacato di categoria il piano di dimensionamento scolastico fermo al 2016. Per la FLC è necessario rivedere anche il piano dei trasporti pubblici per dare agli studenti pendolari qualche comodità in più nel raggiungere le scuole. Ultimo punto ma d'importanza cruciale è l'edilizia scolastica. Su 370 edifici censiti il 72% delle strutture non risulta a norma, il 36% non è dotato della verifica sismica, altri edifici non hanno certificati di agibilità, di abitabilità o del collaudo statico e altri addirittura non risultano essere neanche accatastati. Per la FLC-CGL dunque i problemi sulla sicurezza delle scuole devono essere affrontati di pari passo con la riorganizzazione dell'offerta scolastica. Il sindacato ha chiesto al presidente della regione e all'assessore all'istruzione un incontro per analizzare la situazione e trovare soluzioni per favorire una scuola efficiente, buona e che risponda alle esigenze di tutti.